oggi ho preparato per voi la torta pasquale al formaggio che si realizza con grana e pecorino all'interno dell'impasto seguite il video e scoprite gli ingredienti del procedimento per realizzarla sia con il messier chiusi in connect che con il messier chiusi in plus l'impasto della torta pasquale al formaggio prevede che vengano utilizzati 500 g di farina divisi tra 300 g manitoba e 200 g di farina zero poi utilizzeremo 5 uova, utilizzeremo del formaggio grattugiato diviso in 80 g di pecorino e 120 g di parmigiano poi utilizzeremo del latte, in tutto sono 150 g, 110 g li terremo da parte mentre con 40 g andremo a sciogliere una bustina di lievito di birra secco poi utilizzeremo 130 g di olio, 10 g di sale e 50 g di formaggio preferibilmente del provolone dolce inoltre utilizzeremo dello zucchero, precisamente un cucchiaino e mezzo per sciogliere il lievito di birra all'interno dei 40 g di latte che è la prima operazione che poi andiamo a fare prima di iniziare l'impasto come prima cosa andiamo a mettere nel boccale il lievito sciolto nel latte poi aggiungiamo la farina i formaggi ed infine il resto del latte fatto questo andiamo ad impostare la funzione automatica impastare e la lasciamo settata a 45 secondi e diamo il via adesso andiamo ad aggiungere le uova mettiamo le uova all'interno del boccale ed impostiamo di nuovo la funzione automatica impastare per 45 secondi e poi do il via adesso direttamente dal buco del misurino aggiungo l'olio ed il sale e imposto di nuovo la funzione automatica impastare stavolta per arrivare a un minuto quindi da 45 secondi porto a un minuto e do il via perfetto sempre dal buco del tappo vado ad inserire il formaggio provolone e imposto di nuovo la funzione automatica impastare per un altro minuto do il via ecco il risultato finale l'impasto vedete è morbido quasi come quello di una torta adesso nel frattempo che il Messer Chiusier lavorava ho foderato il fondo di un stampo molto alto con carta forno ho imburrato i lati vedete il tipo di stampo che utilizzerò è questo ma potete utilizzare anche uno stampo da panettone e quindi uno stampo che sia abbastanza alto sui bordi ho messo il mio composto nello stampo adesso lo lascio lievitare circa due ore, due ore e mezza e poi procedo alla cottura vi dirò le istruzioni una volta che il composto è lievitato il tempo di lievitazione che vi avevo indicato è trascorso e adesso andiamo ad infornare a 180 gradi per circa 35 o 40 minuti in forno statico ecco la mia torta tirata fuori dal forno adesso appena si sarà raffreddata farò una fetta per mostrarvi l'interno ecco la torta tagliata spero che la ricetta vi sia piaciuta se vi è piaciuta potete mettere un like a questo video e potete seguirmi iscrivendovi al canale così avrete le notifiche di tutte le nuove video ricette in più potrete iscrivervi al gruppo facebook Messier Chusing Connect Plus Italia oppure seguirmi sul sito www.messiericette.it e buona Pasqua a tutti Grazie a tutti.